Buongiorno ragazzi pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video ieri avevo fatto una live ma purtroppo non so perché il cellulare o chi per lui internet ha deciso di sminchiare tutto e di non farmi fare più la live su questo argomento motivo per cui ve lo riporto perché molti non l'avranno visto ha deciso di levare la live Gerson va al Lille io ragazzi sono contento molti si sono lamentati non c'è un progetto tanto raga a Roma basta lamentarsi se viene Gerson perché 18 milioni per Gerson se rimane Gerson perché questo rimane se va via Gerson perché a Roma è così a Roma qualsiasi cosa succede c'è un problema ragazzi arriva che cazzo ne so Zecco quando è arrivato Zecco questo è un fagnone alto che cazzo arriva Salah se il Chelsea non l'ha voluto ce ne sarà un motivo arriva Perotti un altro Iago Falke è così arriva Manolasso ma se giocava in Grecia c'è stato un motivo è così Roma è così caga il cazzo per qualunque faccenda detto questo Gerson farlo partire è stata la mossa più giusta che si possa fare perché a Roma non gioca mai nemmeno e fa le partite in parrocchia Gerson sta in panchina probabilmente a Spalletti non piace e non conta nulla che è giovane perché io comunque si l'ho detto diamogli fiducia non non criticiamolo però se non gioca ragazzi un motivo c'è il mister Spalletti se hanno valutato il suo cartellino 18 milioni che ho detto non ci focalizziamo troppo sul cartellino però se hanno valutato un certo prezzo il cartellino vuol dire che era un giocatore no che deve far titolarissimo però che ogni tanto il campo lo doveva vedere a Roma veramente ha visto più il campo che so gente del calibro di Jose Angel che vabbè a parte quello si è preso pure il posto di titolare però lasciamolo stare che questo giovane però però punto focale punto importante che va detto il Lil si è presentato da noi ci ha fatto un'offerta a De Cristo perché ci ha detto io ve lo prendo in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni quanto lo avete pagato io ve ridò che già questo potrebbe bastare perché tu dici sì vabbè tiè perché comunque se va male mi ritorna e va bene e lo farò crescere se va bene invece mi sono rifatto i soldi che ho speso malamente perché se io comunque non sono riuscito a far vedere un talento che comunque diventerà forte ma a me sinceramente adesso frega cazzi perché io ti dico vabbè il frosinone non ce vai vabbè il crotone non ce vai vabbè la dozzia qua pelata e non ce vai a questo punto io ti cedo e quindi a me già mi basterebbe così in più il Lil che cosa ha detto io ti do 5 milioni subito sono tua sono tua ti do sono prestito oneroso e poi se il giocatore mi piace ti do altri 13 milioni altrimenti te lo rispedisco a casa quindi tu ti sei fatto 5 milioni puliti poi se va bene ti riprendi tutto se va male ti riprendi il giocatore che potrebbe comunque crescere quindi ora io sì molti mi diranno dubbi dubito comunque che se il Lil già ha dato 5 milioni poi non darà gli altri 13 però se il giocatore dovesse far cagare duro 13 milioni ragazzi sono tanti il totale è 18 13 milioni sono tanti è vero che perde 5 milioni probabilmente se dovesse far cagare duro il Lil direbbe facciamo così Roma ti do altri 2 milioni di prestito oneroso che facciamo 7 e ovviamente il prestito con diritto di riscatto stavolta lo mettiamo a 2 milioni più basso proviamolo un altro anno perché non mi è piaciuto però per me questa operazione è il top tu adesso c'hai 5 milioni da spendere l'anno prossimo probabilmente li avrai altri 13 da spendere sul mercato per un giocatore che è stato un colpo fallimentare di Sabatini una fissa di Sabatini fallimentare fallimentare non perché non è bravo fallimentare perché non è entrato nei meccanismi c'ha una testa tutta sua vuole fare come gli pare perché comunque abbiamo provato più volte a prestarlo la Roma attualmente non può permettersi un giocatore di 18 milioni che fa panchina se spendiamo 18 milioni tutti i giocatori dobbiamo prendere un cazzo di top player per la Roma non dico un top player top player del mondo top player per la Roma c'è un giocatore inamovibile in mezzo al campo e purtroppo Gerson non lo è e non lo era lo sarà ma Roma non ha dimostrato un cazzo diventerà forte? si diventerà forte ci hanno fatto due coglioni così con Gerson il giocatore rubato dal Barcellona clamoroso il giocatore ecco Gerson diventerà forte sto contento per lui come diventeranno forti altri 100 giocatori come se non fossimo mai visti detto questo raga tranquilli basta criticare sempre basta anche se vostra zia va al bagno romanisti non bisogna criticarla perché è andato al bagno qui e non al bagnetto di là cioè non è che bisogna se la Roma compra che comprasse qualunque giocatore del mondo ci sarebbe sempre qualcuno che non gli va bene perché se comunque vi faccio un esempio ragazzi ma perché l'ho vista come cosa l'anno scorso l'anno scorso e comunque è stato preso di gerie si parlava di Zlatan Ibrahimovic alla Roma che si sapeva che sarebbe stato poi impossibile però se ne parlava leggo sotto i commenti clicco ragazzi i commenti sotto c'era scritto voi direte no è impossibile ve lo giuro c'era scritto un sacco di commenti con ma se non se lo prende nessuno ci sarà un motivo se ha 34 anni è normale che le squadre non lo vogliono se viene alla Roma vuol dire che le big non lo vogliono ma che cazzo di ragionamento fate e se prendiamo una sega perché prendiamo una sega e se prendiamo uno forte perché gli altri non se lo prendono non è più forte vaffanculo detto questo se Grenier e Garnier come cazzo è venuto a fare il sostituto di Gerson benissimo perché attualmente per quello che ha fatto Gerson nel primo quadrimestre diciamola così il sostituto di Gerson non lo posso fare anch'io mi metto lì in panchina e dico due stronzate ma manca il sostituto di Turbe che più o meno può essere pure a livello del Garnier lì tanto non cambia niente spero che con Garnier lì Grenier diciamo il nome Grenier è stata fatta un'operazione intelligente perché comunque è intelligente come operazione ragazzi se fa care io lo rispediamo se fa bene per 3 milioni e mezzo è nostro io sono contento niente fatemi sapere voi qui sotto che cosa ne pensate di questa cessione della Roma io personalmente sono contento aspetto qualche acquisto spero oggi perché è importante venga fatto io vi ringrazio per la visione buon shalalala e ci vediamo ad un prossimo video